Che schifo ragazzi, una Lazio disastrosa, forse la peggiore Lazio di questa stagione, non l'ho mai vista così male, ragazzi non faceva tre passaggi in fila che andava in difficoltà e che perdiva il pallone. Milan invece che ragazzi ha fatto un partitone, Milan che si è visto che comunque mercoledì ha fatto riposare tanti big perché Giroud ragazzi ha fatto un partitone, anche tanti altri centrocampo, Ben Asher probabilmente il migliore in campo. Ragazzi quando ho visto Leao infortunato ho detto ragazzi qui la Lazio deve fare due o tre, ragazzi senza Leao, fatica eh, abbiamo visto la scorsa partita contro la Cremonese, invece ragazzi al Machiazio è entrato benissimo, forse è stato il giocatore che ha cambiato l'ago della bilancia, centrocampo perfetto è Tonali Ben Asher, giù la tre quarti, benissimo, il Milan, l'attacco Giroud dall'altra parte Messias ha fatto un partitazzo clamoroso, ragazzi la Lazio è troppo, troppo sufficiente nelle giocate, troppo sicura di sé, e alla fine ragazzi le paghi perché sono due gol su due errori secondo me, secondo ragazzi è una magia di teo però ragazzi lì deve uscire qualcuno, un difensore deve uscire, non puoi far lasciare un tiro così. Ragazzi il primo gol arriva dopo comunque un inizio abbastanza buono che è la Lazio, prende in mano la partita al Milan, ragazzi c'è un errore pastesco lì in difesa di Casale che ragazzi non puoi darla lì, il pallone a Marco Santoro ha girato le spalle, che non può fare nulla, ragazzi fanno stop un pochino di troppo, un pochino troppo lungo, ma ragazzi non è neanche colpo su, secondo colpa di Casale in quel caso lì, Marco Santoro perde palla lì, il pallone ha recuperato, la cruce, Giroud la tocca per me la cerca di sinistro, la schiaccia per terra e la butta in rete, è abbastanza fortunato perché comunque il pallone gli ha rimbalzato, se non per vedere l'avrebbe preso, se fosse rimasto anche ai piedi. Comunque il Milan passa meditatamente in vantaggio, secondo me con la Lazio ragazzi che non reagisce per niente, non fa nulla per provare a cambiare risultato, in difesa perfetti, Chierre Tomori, Chierre partito anche lui da quando ha giocato il primo tempo, perfetto, dopo è stato sostituito all'intervallo, e poi ragazzi il Milan prende in mano la reddita della partita e fa anche il 2-0 ragazzi, con l'alasco, con l'Atalanta, uguale praticamente, al costo costa la difesa, all'attacco, sinistro sul secondo palo, forse ancora più bello, ragazzi, gol sotto l'incrocio, provvedendo ad arrivarci forse per la diversione decisiva di Romagnoli. Poi ragazzi, la Lazio non fa nulla, cioè al primo tempo completamente niente, l'immobile completamente fuori dal gioco disastroso, questo immobile ragazzi non può giocare a titolare in questo momento, perché ragazzi non tiene nessuna palla, non fa uno stop, veramente lento, c'è un giocatore veramente di cosa vede da serie B, un giocatore che non riesce a fare nulla, in difficoltà totale, o che ragazzi non è al meglio, ma così, c'è un po' di mettere i cancellieri, fa più cose, un disastro, poi un secondo tempo qualche cambio, ragazzi, ora vi dovevi togliarlo al primo tempo, che cazzo faceva così, cioè giocavo con una gamba, da Cagni ragazzi, se l'ha fatto male, aveva avuto una fraticamente, ha giocato lo stesso, ha giocato anche bene, al primo tempo, ragazzi, se lo fosse lo da Cagni e Felipe Anderson, gli altri malissimo, Romagnoli, Casale, c'è un altro gioco sempre bene, pessimi, dentro il campo anche pessimi, ha parlato di Lucio Alberto, Lucio Alberto ragazzi, il brio alla squadra, l'unico che si ha provato, con anche il pallone nel finale che ha messo per Pellegrino, una magia, e però ragazzi poco altro, c'è veramente poco da dire, poco da fare, questa Lazio, si gioca così malissimo, non l'ho mai visto che si gioca così male, e la prossima collezione, sicuramente ragazzi si riprenderanno alla grande, vedremo perché comunque adesso il Milan va a 61, a 64, non ci sono tutti lì, vedremo cosa ci sarà, questa è la prossima, vi dico sempre, al prossimo video.